Sono Gianpaolo Sellitto, funzionario dell'Ufficio Relazioni Internazionali di ANAC e negli ultimi anni mi sono occupato dell'apertura della banca dati e del portale open data dell'ANAC. Sono felice che mi sia stato chiesto di rappresentare l'ANAC nel forum multistakeholder perché credo fermamente che il confronto con la società civile e con le altre amministrazioni sia un importante elemento per la riuscita delle strategie di prevenzione della corruzione a livello nazionale. Dalla partecipazione dell'ANAC a questo forum mi aspetto risultati importanti sia in termini di temi che di azioni concrete per l'avanzamento del governo aperto a livello nazionale. Quindi è con grande soddisfazione da una parte e attesa dall'altra che mi preparo a partecipare a questo forum multistakeholder. Grazie. Grazie. Grazie.